È da più di un secolo che esiste l'abilitazione alla guida, che oggi chiamiamo patente di guida. E da quando esistono le autoscuole che si parla di sicurezza stradale. Oggi siamo nel 2022 e nel nostro paese nulla è stato ancora mai realizzato sulla sicurezza stradale, in modo concreto e continuativo. Guardiamo qualche dato. Nel 2021 ci sono stati più di 151.000 incidenti e sono più di 2.000 le persone morte. 8 persone al giorno perdono la vita a seguito di incidenti stradali. Io sono una vittima indiretta. Ho perso mio padre quando avevo un anno e mezzo. Era il 23 luglio del 1982. Credo che gli unici che possono realizzare qualcosa di concreto nella sicurezza stradale siano proprio le autoscuole. Se mi dovessero chiedere quanti delle persone che ha parlato credono nella sicurezza stradale, io risponderei senza esitare il 100%. Proprio da questi migliaia e migliaia di titolari di autoscuola ho sentito queste frasi. Il mio obiettivo è quello di insegnare in modo sicuro. Credo concretamente nella sicurezza stradale. Il mio sogno è quello di realizzare concretamente qualcosa nella sicurezza stradale. Ma la frase che ho sentito di più è questa. Aspetto che esca una legge statale che obbliga tutti i ragazzi a frequentare un corso di guida sicura. Credo che sia arrivato in un momento storico di porci delle domande. E le domande che io pongo sono queste. Se ci credi concretamente, perché aspetti una legge statale? Se per te è un valore fondamentale quello della sicurezza stradale, perché non ci mettiamo insieme per realizzare qualcosa? Ho posto queste domande a centinaia e centinaia di titolari di autoscuola, rendendomi disponibile a metterci cuore, passione e soprattutto denaro. Quello che mi hanno risposto si può evincere dai fatti. Ad oggi sono solamente 100 le autoscuole che mi hanno risposto concretamente. Io ci sono. Io voglio trasformare questa parola, ovvero sicurezza stradale, in qualcosa di concreto. Tutti gli altri, prova a immaginare tu cosa mi hanno risposto. 100 autoscuole che hanno iniziato la rivoluzione. 100 autoscuole che ci hanno messo passione, cuore e denaro. 100 autoscuole che sono entrate nella storia. 100 autoscuole che hanno dato il via a una nuova categoria. Le autoscuole 2.0. Mi sono stancato di ascoltare parole, parole, parole. O di ascoltare consigli di chi non vuole metterci la faccia, di chi non vuole fare niente di concreto, ma vuole continuare a parlare. Le parole vanno al vento. Quello che rimane in questo mondo sono i fatti. La rivoluzione è già cominciata. Le autoscuole 2.0 già esistono. Nelle autoscuole 2.0 i ragazzi possono, oltre a fare quello che già fanno nelle altre autoscuole, aderire e partecipare a un corso di guida sicura completamente gratuito. Questo video serve per sensibilizzare tutti quei colleghi che vogliono entrare concretamente nella rivoluzione. Tutti quei colleghi che hanno voglia di dire anche per me non è solamente una parola, ma voglio fare dei fatti. Ed entrare nel mondo delle autoscuole 2.0. Questo video è per tutti gli altri colleghi che credono nella sicurezza stradale e non vogliono fare nulla insieme a noi. E che questo video serve per esortarli a fare comunque qualcosa nella sicurezza stradale, con noi o senza di noi. È importante che si faccia qualcosa. Questo video è per mandare un messaggio a tutti i nostri ragazzi in nostro futuro. E per dire che esistono le autoscuole 2.0, quelle autoscuole che oltre a fare quello che si è fatto fino ad oggi, gli permette loro di frequentare gratuitamente un corso di guida sicura, con istruttori abilitati. Questo video è per tutti quei genitori a cui pongo una domanda. Quanto vale la vita di tuo figlio o di tua figlia? Vale molto, non ha prezzo. Bene, mi rivolgo a voi. Se pensate che sia importante per i vostri figli, fagli frequentare un corso di guida sicura, in una struttura sicura, con istruttori abilitati e professionali, in modo tale che quando i vostri figli escono per andare in discoteca, escono la sera, già hanno affrontato situazioni di pericolo in contesti invece sicuri. E se dovesse capitare qualcosa, sapranno come affrontare, anche se io auguro che non succeda mai nulla. Parlo a voi. Se volete che i vostri figli facciano un corso di guida sicura gratis e incluso nel percorso formativo, allora sappiate che esistono le autoscuole 2.0. A tutti quei genitori che invece vogliono frequentare loro un corso di guida sicura, sappiate che potete rivolgervi anche voi alle autoscuole 2.0. Un vecchio slogan dice siamo quello che facciamo, non quello che diciamo di essere. E le autoscuole 2.0 sono scese in campo per concretizzare quello che per molti era un sogno. Quel sogno è diventata realtà. Ringrazio tutte le persone, ringrazio tutti i miei collaboratori, tutto il mio team, tutti i titolari di autoscuola che insieme a me ci hanno messo cuore, passione e denaro per concretizzare questo sogno. E la mia promessa è che questo è solamente l'inizio. Grazie.